La comunità stamattina dice buongiorno, adesso mi trovo a dire buona sera. È ovvio che io ho presentato un partire per sé, con un sconto con gioia, la mozione di parte del Partito Democratico, che ottiene una maggiore attenzione per tutti i carini. Però io provocare a me, vorrei chiedere di quattro consiglieri contanti che sono presenti in questa Aula, se conoscono un evento che ha comprato la nostra comunità naziana. Ci sono quattrocento famiglie che sono viste a inizio anno scolastico per trarre un diritto che avranno mantenuto per decenni. E mi dedico ai scolabus, scolabus che significa le scuole medie, che questa amministrazione ha pensato bene non di eliminare, ma di sospendere. E quando io sono andato a chiedere il pochettino quali erano i tempi di sospensione per questo servizio, mi hanno detto che i tempi di sospensione sono stati una serie che hanno costato, diciamo, il nostro parco a ore 20, da 14 unità a 5 unità, 9 punti che abbiamo dovuto rinoclamare. e poiché non siamo stati in grado per vedere questa un'ossigenza creatura dei polizzi, le mani che si dobbiamo rinoclamare. Se fanno una rove della sessore competente, è stata quella di dire che i polizzi della scuola media non sono un diritto, ma è un'accessione dell'amministrazione. Voglio ancora, per presentarvi il problema, direi che a 5 comuni che vi facciano, servono le scuole medie, scuole medie, scuole medie che l'ultima volta non la fanno più, cioè per garantire il servizio è stata abolita nelle ultime 50, gli ultimi 50 minuti di azione, non nemmeno più paradigmi. Ecco, a me piacerebbe comportarmi su questi tempi, antiché parlare di tante cose, come abbiamo fatto oggi, spararci addosso. Mi piacerebbe qualcuno di qui, perché noi abbiamo voluto fare un concetto di abitabile, antiché fornire i servizi che abbiamo sempre caratterizzato ai nostri cittadini. Queste sono le cose che io mi chiedo da cittadino, prima che la consigliere è poco. Allora, lei, lei, io ti dico in giro, lasciamola, lasciamola a voi. Quando ci incontriamo qui dentro, e io speravo che questo consiglio contale, questo consiglio contale potesse servire una buona stagione, non rivedo sempre, perché ci sono tante persone che sono qui per la prima volta. Io dico, abbiamo avuto la fortuna che il popolo a maggiori anni ha dato un suo consenso, non freghiamo questo consenso. Questo consenso iniziamo per rendere migliore la città e i più i grandi, i più i grandi, i grandi, i grandi, i grandi, i grandi, i grandi, i grandi. Grazie.